E' estate ma non per tutti a Catania, dove c'è chi ha lavorato e adesso si gode le meritate vacanze e chi lo ha fatto ma non è stato ricompensato. Il Tondo Giovanni è stato riqualificato, il ponte abbattuto ormai da quasi due anni, i torni indietro realizzati e la viabilità rimodulata. Ma l'azienda, che ha investito risorse materiali ed umane, attende ancora di essere saldata. E' una città che viaggia a due velocità, quell'etnea, dove ci si freggia delle migliorie e delle grandi opere cittadine, lasciando però poi al palo i pagamenti. E non parliamo di mesi, ma di anni. Ne sono trascorsi già due, tra rinvii, promesse e prese di tempo, che non hanno fatto altro che snervare e ad oggi mettere a rischio un'azienda. E' la Catania che dà lavoro senza pagare, quella amministrata negli ultimi periodi, e il rimpallo di competenze fa ancora più rabbia. Gli assessorati al ramo che rimandano ai revisori dei conti, con una transazione con l'azienda già sottoscritta dall'amministrazione comunale. E con gli operai che adesso vedono a rischio anche i loro stipendi, uomini che giorno e notte si ricorderà che il cavalcavia venne abbattuto a notte fonda, che hanno lavorato per garantire la consegna nei tempi stabiliti, cercando a ridosso di ferragosto di non interferire con il traffico quotidiano. Ma che fine hanno fatto questi fondi? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Catania, Enzo Bianco, che però se ne lava le mani. Sentiamo Francesco Larosa. L'abbattimento del tondo geni, la ditta che si è occupata dei lavori, è ancora in attesa delle spettanze, con grave rischio anche per le maestranze, eccetera. Lei cosa si sente di dire oggi? Il sindaco non si occupa dei fatti amministrativi, ci sono le burocrazie che si occupano esattamente di questo. Se ci sono dei ritardi hanno il dovere di provvedere rispettando i tempi, perché non dobbiamo mai dimenticare che chi lavora per il comune ha diritto di essere retribuito giustamente sulla base della legge, e quindi tirata d'orecchie se c'è qualcuno che oggi non fa il suo dovere. C'è la possibilità di dare delle scadenze urgenti, visto che ci sono dei posti di lavoro a rischio? Non spetta a me questo, dovrei conoscere di che cosa si tratta.